che noi abbiamo fatto è una sperimentazione che riguarda il forum nazionale per lo sviluppo sostenibile e il processo istituzionale nel quale il forum opera è quello della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che è lo strumento di attuazione strategico dell'agenda 2030 in Italia già in questa slide ci sono evidenti alcune questioni fondamentali e cioè ci sono tantissimi loghi che vi valgono a dire che ci sono state tantissime persone che vi hanno lavorato e su attività di partecipazione con un impatto anche di natura tecnologica ha necessità di tante competenze diciamo per poter sul se pensiamo a temi come quelli dello sviluppo sostenibile e a soggetti istituzionali come il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è importante diciamo poter collaborare su qualcuno che invece ha un'esperienza molto più profonda non tanto sul tema oggetto della partecipazione ma invece proprio sugli strumenti che rendono possibile la partecipazione questo significa che in questo io ho preso la presentazione diciamo fatta proprio per Open GOV non ho nemmeno cambiato grandemente diciamo il layout solo ho cambiato il posto dei loghi questo a voler dire che i processi di partecipazione sono dei luoghi che possono essere osservati da diversi punti di vista allora ad esempio due minuti fa abbiamo sentito l'approccio di Gianfranco sulla piattaforma partecipa.p.a questo è l'occhio su come abbiamo vissuto partecipa.p.a dall'occhio del Ministero della Transizione Psicologica allora tanto per intenderci il modo in cui noi intendiamo la partecipazione in riferimento al Ministero dell'Ambiente all'interno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile sono riconosciuti tre vettori di sostenibilità cioè tre fattori trasversali abilitanti per gli stakeholder dello sviluppo sostenibile tra questi tre fattori uno dei più importanti oltre alla coerenza a politiche coerenti alla cultura per lo sviluppo sostenibile è la partecipazione in riferimento a questo abbiamo diciamo in qualche modo in questa slide indicato quelli che per noi erano strategicamente diciamo elementi fondamentali di breve periodo e quelli che invece intendevamo perseguire con il progetto come obiettivi di lungo periodo la partecipazione ha un suo senso se è riferibile ad un ambito molto ristretto e molto specifico dico per dire la partecipazione attorno ad una infrastruttura la costruzione di una infrastruttura può essere può avere anche un carattere diciamo tra virgolette puntiforme ma nel caso di dinamiche come quelle dello sviluppo sostenibile che sono dinamiche di lungo periodo in realtà noi abbiamo bisogno di tenere sotto eh non sotto controllo perché qui non si parla mai né di controllo né di gestione quando si parla di partecipazione ma costruire però delle dorsali di processo che tengano insieme la dinamica di breve periodo con la dinamica di lungo periodo allora la dinamica di lungo periodo è appunto l'attuazione e la revisione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che viene fatta attraverso il forum che è un forum con duecento organizzazioni le più diverse piccole piccole ma anche grandi grandi anche reti eh di reti molto casi eh vi cito l'ASVIS vi posso citare il WWF vi posso citare il forum del terzo settore ehm la rete GICAP contro la povertà e così via. Allora ehm su questo abbiamo cercato di utilizzare una occasione eh importante ehm internazionale che era la eh la level political forum delle Nazioni Unite che ogni anno si riunisce per valutare lo stato dell'arte sull'agenda ventitrenta si riuniscono i capi di stato e i ministeri quindi un livello di proposizione molto alto. In questo ambito l'Italia ha partecipato tre anni fa con una propria Voluntary National Review voleva ripartecipare eh lo scorso anno nel duemila e ventidue con un processo partecipato cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia si presentava davanti ai capi di stato e ai ministri e ai ministri invitati eh con una propria analisi su come è lo stato di attuazione dell'agenda ventitrenta in Italia e per farlo poteva scegliere due vie una più tradizionale che abbiamo visto funzionare sempre cioè quella di dire ministero scrivi tu che cos'è che abbiamo fatto oppure invece costruire un documento in maniera partecipata e abbiamo scelto questa seconda strada eh la seconda strada è stato quindi ehm però siccome ehm un cercare di costruire uno spazio in cui poter raccogliere l'attività partecipativa del forum e nel frattempo sperimentare un processo di consultazione proprio per costruire un position paper eh da presentare a New York ehm nell'estate eh diciamo successiva. Per affrontare questo tipo di task provate a immedesimarvi nel nelle pieghe del ministero dell'ambiente che cosa vuol dire approcciare in maniera partecipata a questi temi e di quanto aiuto abbiamo avuto bisogno e eh quanto ne abbiamo ricevuto. In questa eh diciamo slide io ve la porto poi ve le traccio in maniera estremamente veloce poi insomma se avete mh piacere ovviamente ve le condivideranno eh da una parte noi abbiamo quindi due processi con uno abbiamo costruito insieme al DFP eh e ehm e a ehm e al Formez la piattaforma e nello stesso tempo in maniera anche asincrona con il forum siamo andati avanti cercando di arrivare ad un livello di maturazione adatto per poter sottoporre un documento poi ad una consultazione pubblica. Qual è il valore aggiunto per una amministrazione di aver appoggiato un processo partecipativo sulla piattaforma partecipa PA? È evidente cioè quello di avere di 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 aver eh usato le norme e la regolamentazione già eh diciamo già ehm eh già cambiata analizzata la privacy insomma tantissime questioni anche di natura legale formale eh che poi hanno ripercussioni sugli aspetti tecnologici noi li abbiamo diciamo in qualche modo condivisi con persone esperte di questo. A chi è fuori cioè ai soggetti delle diverse organizzazioni aderente al forum ma questo ha dato una ulteriore garanzia di trasparenza di eh vicinanza istituzionale e tutto questo ha costruito un buon ambiente che poi andremo eh diciamo poi vi rendi conterò nei risultati finali. Eh il processo è stato un processo partecipato che eredita da una parte diciamo una storia già di partecipazione del forum ci siamo poi incontrati prima con un questionario da cui abbiamo costruito questa bellissima eh luminaria in cui si incrociano sostanzialmente due cose bisogni del forum con le eh con le funzionalità con le funzionalità di desidim così come ce ne hanno già state eh costruite argomentate su cui eh eh per riguadro eh accanto le funzionalità che di desidim e in partecipi e su partecipa a PA noi avremmo potuto eh eh utilizzare. Roberta perdonami eh devo chiederti di diciamo stringere un po' perché poi vogliamo lasciare anche uno spazio alle domande. Hai perfettamente ragione. altre due altre due esperienze da presentare. Ti chiedo se in un paio di minuti riesci a concludere la presentazione. Perdonami per questo intervento. È a del forum sulla piattaforma partecipa a PA. Abbiamo attivato un processo di consultazione sul position paper che ha visto un'organizzazione anche per eh gruppi di lavoro. La partecipazione partecipazione è stata una partecipazione ottima perché vedete pochi contributi ma su questo vale eh diciamo la qualità dei contributi. Eh la qualità significa soggetti che hanno partecipato scrivendo delle cose di grande significato che quando parliamo di sviluppo sostenibile non è irrilevante. Quindi i risultati per noi sono stati ehm particolarmente significativi anche per la qualità degli interlocutori che sono intervenuti. Ovviamente tutto questo è affiancato con un processo eh che ha previsto anche altri momenti di partecipazione quindi non solo partecipazione sulla piattaforma ma anche partecipazione in altri momenti. Il risultato finale è stato un documento presentato alle Nazioni Unite che eh come documento portava eh con sé veramente le voci delle persone. Voci che oggi noi ehm troviamo vicini in tantissime in tantissime altre in tantissime altre eh diciamo attività e che hanno permesso alla società civile di arrivare con una voce organica univoca. Questo grazie anche all'utilizzo di una piattaforma tecnologica. Grazie. Io vorrei aggiungere due cose su quello che ha detto Roberta che il documento messo in consultazione già era stato costruito come un documento partecipato nel senso non era un documento redatto dal ministero e poi messo in consultazione ma era stato già costruito come un documento partecipato all'interno del forum nazionale dello sviluppo sostenibile e che ehm e che la consultazione era chiusa perché questo spazio che noi abbiamo costruito con i degli aderenti del forum a del forum nazionale dello sviluppo sostenibile è di fatto uno spazio chiuso è una è uno spazio che ha un grado di visibilità di 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 informazione di reporting sulle attività ma le attività vengono fatte in degli spazi chiusi perché il forum nazionale sviluppo sostenibile è è aperto certo però eh ha delle modalità di lavoro in spazi ristretti e chiusi per cui anche la consultazione sul position paper è stata è stata partecipata fra virgolette dai quelli che aderiscono al forum nazionale sviluppo sostenibile. Forse eh due cose che mi vengono in mente per dare insomma un un altro pezzettino di comprensione un aspetto fondamentale è stato lo stare insieme quindi abbiamo costruire insieme strumenti digitali molto semplici quindi dei form eh che a domanda aperte che hanno fornito un patrimonio di contenuti che sono stati spacchettati su una superficie digitale di facilitazione noi usiamo qui Miroma lì abbiamo usato Mural ma il il fatto è che poi attraverso una eh un co-design un design proprio dell'ambiente eh sulla superficie del mural quasi sinsemico no? Dove i i contenuti hanno senso nei loro nelle loro relazioni di prossimità un po' come le persone perché le persone nelle relazioni prossimità costruiscono il senso delle cose no? Con questa intenzionalità abbiamo fatto quella cosa visionaria che è la luminaria e e anche lì abbiamo intersecato le esigenze rispetto alle funzionalità ci sono componenti sì anche massivi rispetto per esempio a tutte le esigenze del forum eh quindi centotrentatré diverse esigenze che poi convergono eh diciamo nelle componenti di desidim quindi c'è anche una cura partecipativa di eh come dire di rilettura del processo di costruzione della piattaforma infatti la lavagna ha un outline che ricostruisce fase dopo fase questa questa crescita comune e questa testimonianza diciamo di costruzione del senso grazie a tutti